Un bilancio senz'altro positivo tenendo conto di quelli che i numeri che sono a nostra disposizione. Quindi i numeri ci dicono che Salento Impulse è stato utilizzato tantissimo in alcune direttrici dove abbiamo avuto un incremento del 40%. Parlo della direttrice Lecce Porto Cesario, Lecce Gallipoli, Lecce Maglie o Trantotolle dell'Orso. E quindi la dimostrazione che quando poi il servizio viene organizzato da un unico ente capace di poter coordinare e soprattutto di coordinare tenendo conto di quelle che sono le esigenze di mobilità i servizi funzionano. Cioè questa è la dimostrazione che noi avevamo ragione che anche nella riforma dell'attuale sistema di trasporto in un nuovo piano di bacino bisogna creare i servizi partendo proprio dalle persone e non dalle aziende. E quindi abbiamo migliorato anche l'aspetto comunicativo, abbiamo intensificato la comunicazione e la conoscenza di questo servizio. Abbiamo introdotto quest'anno anche il servizio di assistenza a bordo per i passeggeri coinvolgendo l'Università del Salento e 24 studenti della Facoltà di Lingue e Letterature dando a loro la possibilità di svolgere un servizio utile per la collettività e per il Salento, di poter essere anche un momento formativo importante per loro e anche di poter guadagnare, di avere un piccolo contributo per l'attività svolta. Le novità per il prossimo anno sono quelle di utilizzare quella parte di progetto che ci è stata già finanziata, che è InfoCity, per sperimentare su alcune linee di salento in bursa l'acquisto del biglietto attraverso telefonino. Quindi cercare di venire incontro sempre a quelle che sono le esigenze delle persone, avvicinare quindi le persone all'utilizzo nel mezzo pubblico in alternativa al mezzo privato. Grazie